Ci colleghiamo in diretta con la padrona di casa, Mara Venier. Mara, chi ospiterai oggi? Caro Lessio, eccoci qua. Allora, credo che farà piacere a tutti voi del TG1 sapere che noi partiremo con una grande festa, un grande atto d'amore nei confronti del vostro collega Vincenzo Mollica, che da ieri è in pensione dopo 40 anni di Rai. Per cui diciamo che questa domenica è dedicata davvero con tanto amore, con tanta gratitudine, con tanto affetto al grande Vincenzo Mollica, una persona per bene, un grande giornalista, una persona per bene amata da tutti. Grandi amici saranno qua, tanti filmati, davvero una grande festa. Ci deve essere un abbraccio generale da parte di tutti nei confronti del nostro Vincenzone, come lo chiamo io, Alessio. Ci sarà anche, mi auguro, il tuo direttore del TG1 in collegamento per un saluto e tanti altri amici. Ancora Sanremo, abbiamo con noi Marco Masini, le vibrazioni, Michele Zarrillo, vogliamo ricordare Renato Rascher, con la moglie e con il figlio. E ancora il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, che ci porterà un grande regalo per gli amici di Domenica Lì, la nazionale italiana campione del mondo. Grazie Mara, a tra poco, a tra poco Alessio e grazie. Li chiamano badanti.